Accuse pesanti da parte del consigliere regionale Marco Cipolletti e del medico di medicina generale Siriano Cordoni sulle liste d'attesa all'asla di Teramo e in particolare per la mappatura dei nei. Si tratta quest'ultima dell'epiluminescenza, un esame che permette di valutare le lesioni dell'acute. Il consigliere Cipolletti ha sostenuto che una prenotazione di tale esame diagnostico da effettuarsi entro dieci giorni come da prescrizione avrebbe trovato una disponibilità solo nel gennaio 2024. L'asla di Teramo precisa invece che dopo una consultazione della piattaforma di prenotazione, la prima disponibilità di una dermatoscopia è per il 3 giugno prossimo all'UCCP di Villa Rosa, il 28 settembre 2022 all'ospizio marino di Giulianova, il 3 ottobre nel distretto di Roseto. Il cittadino spiega il direttore sanitario Maurizio Brucchi con le giuste indicazioni avrebbe potuto soddisfare la sua esigenza di valutazione di un neo nei tempi giusti. Infatti tale prestazione, secondo l'asla, non godendo di criteri di priorità, può essere erogata entro 120 giorni come prevede la norma. Il problema delle liste di attesa esiste, commenta e riconosce il direttore generale Maurizio Di Giosia. Non a caso a marzo l'asla di Teramo ha varato un apposito piano di recupero che sta dando buoni frutti. L'azienda sta valutando anche misure straordinarie, fra le quali la limitazione dell'attività in libera professione, negli ambiti in cui non si rispettano i parametri. Inoltre proporrà, nella stesura del prossimo accordo integrativo con i medici di medicina generale, dei livelli sanzionatori per le reiterate prescrizioni inappropriate, così come attuato in altre regioni.